Che programmi hai? Eh, io... Non sapevo... No, vorrei fare una cena o qualcosa, ma vediamo. Ok, grazie. Prego, ciao. Somma, festeggerai San Valentino? No, sono contro questa festa. Ah, come mai? Mai festeggiata, boh, mi sembra una festa quando magari molte coppie escono quella sera e poi le altre sere si rintanano in casa. Quindi tu dici che, insomma, non è una festa granché, diciamo, che ha del valore, insomma. È diventata una festa del consumismo. Come Halloween. Del resto. Ma io donare amore ogni giorno. Sì, infatti.